Ci siamo... cavolo mi siete quasi mancati che non ci sono stato per un po' di tempo O meglio l'altro ieri sera la connessione è esplosa e continuava ad esplodere per tutta la giornata Ieri non ci sono stato per cui un po' sfortunato Però come state ragazzi cavolo? Mi sembrava di non streamare da 20 anni cavolo Dante si è divertito, si 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 Abbiamo passato la giornata insieme, abbiamo fatto un po' di cosine Ah lo so, lo so, vabbè ma è sabato no? Ricopriamo le ore di ieri ma è sabato insomma tuttavia Possiamo accettare il compromesso Insomma si perde un LP Eh non è facile, non è facile Abbiamo un LP game sbizzarrino In compensa sto giocando più cose sul main account, sto giocando un po' di zacco Ho giocato l'altra volta per testare la connessione e è stato divertente Ho giocato zacco, l'ho giocato Hai letto i futuri huge nerf alla jungle? No, non l'ho letto Ma quello che sarà sarà, non è importante E io ho Cristian anche a te, basterà tastare di più, I guess Oh roba è il genere Grazie signor huge dei due mesi, sab Bentornato, bentornato Dante diventa archeologo Confirma è Dante archeologo skin Ok, io spero di non essermi dimenticato niente Non dovrei essermi dimenticato qualcosina Ciao Cristian Vediamo un pochetto, magari senza far ricascare tutto E vediamo cosa combiniamo Startiamo da red, facciamo come al solito un game di warm up sullo smartphone Ho addirittura due persone, ho giocato due giorni praticamente Quindi vorrei fare un po' di warm up in più del solito Quindi magari due game e poi ci buttiamo su me in account Vediamo Vediamo come mi sento con questo, dopo di questo E decidiamo di conseguenza E signor Marchetto A me non piacciono certe cose Ciao Narum, come stai? Easy to swap Ah, vogliamo giocare a D-Carry per cui, no? Calza a pennello Calza Periodo da D-Carry Confirmed Con il Lair Fire Jungle Oggi Shyvana Oggi li vediamo Probabilmente anche Shyvana Probabilmente anche Shyvana L'altra sera non funzionava la connessione perché c'era il nut Ma vanno, sto giocando col nut Indipendentemente dalla connessione Però non ha avuto parecchi problemi l'altra volta Cioè considera che ho fatto un game of stream dopo un paio di ore Per vedere se magari era tornata la connessione E in quel game mi sono disconnesso tipo 5 volte Per fortuna abbiamo vinto lo stesso Ma continuo ad avere problemi di connessione Non so, stanno facendo i lavori fuori casa Non so se per quello O sarà semplicemente una coincidenza Comunque è un po' una seccatura Grazie all'Ella dei tre mesi Bentornato Graves 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 per fare warm up, sì, un pochettino Ciao anche a te, manzino Comunque giochiamo un po' di tutto Vediamo, insomma Boing Quel signorino lì vuole un gank E io glielo posso dare un gank Mi sa Mi sa Oddio, in realtà dipende dalla vita di Camilla Non è che sia, mi sa proprio tanto male Va bene, va bene, va bene Vediamo Allora si tirano le pizze in top Adesso andiamo a gankare, va Magari flash Ah, anche l'ignite Allora voglio che si ganka Oh, ho cancellato l'auto Upsi No, resta, bro, resta Vai flash dopo il big night E va giù, penso Più o meno Avrebbe Di livello 4 c'è l'oward Non ce ne sono Però Rektor non è che abbia tosta vita Ok, l'ho guardato, fuck Quindi vai adesso, non vai più, bro Mamma, quel flash La Camilla è impazzuta Mia Mia Oh, what? Sono morto? Ma stiamo scherzando Potremmo uscire dieci volte Non sa morire Non pensami arrivasse la torrettata Non ho preso tipo due extra Vabbè Ciao Davide Grazie di quattro mesi E ciao Anche a te Signore Destiny Come stai? Stavo giusto per scriverti Chiederti come andava stamattina Poi ho detto Abba lo faccio dopo lo stream Quindi probabilmente E' ripito col dimenticarmi Tutto bene a passare Ehi Ma giuro che avevo buone intenzioni Cara, come ho fatto a morire Non trovo quella Camilla Death flash Ma 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 come è death flash? Io pensavo alla torretta Smettessi di attaccarmi Pensavo di fare a tempo E invece niente Maledetta torretta Broken Infinite range No Non ho letto ragazzi Dopo Ce li leggiamo insieme O Vabbè Tanto finchè non arrivano Su live server Chi se ne importa Insomma Quando è Poi ci si regola Di conseguenza Male che va Giochiamo cose che più utiliti Oh Guarda che vince Ecco vince lì C'è sera Filmanaggia Challenger da di carry Guarda Ne parlavo prima Imminente Rosewap Let's go Dammi anche il pace Trash baby Trash Quello che era criminale Veramente Meno male che lei ha sprecato il flash Grazie Condor Di 8 mesi Bentornato Serafine ha flashato Ed è morta Vediamo Vediamo Non sono il miglior grace Della landa io Però sono un po' avanti Rispetto al loro Signorino lì Piego Ah bro Lascia perdere Siamo solo perdendo tempo Ciao Pox Buona lezione Ciao Norin Siamo senza di carry Beh abbiamo Vaggar dai no Ci pensa il Vaggar Dove fare le robe Vaggar di carry Poteva andare peggio Certo Non è Apeleus Vediamo un pochetto Vediamo Vediamo Ok Via Renec boy Via Renec boy Attivi la ultimate Renec boy Mi pare un po' grigia sta Camilla Potrei sbagliarmi Aiutiamo Evviva Vaggar l'abbiamo rubato Rubato Senza di me non sarebbe morto L'abbiamo meritato Vuoi una mano a dare la wave Ci sono con te Vaggar Vaggar non ti farei catturare Mi raccomando Dobbiamo solo pushare Questi CS Prenditi il carretto tu Ciao Va bene va bene Grazie cassettone di dieci mesi Allora bentornato Festeggiamo questi dieci mesi Wait Qui che dobbiamo fare Pam Ma io volevo Rentropire l'altro Senti doc Il sabato Non c'è orario Ok 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 Più o meno Non si preoccupi Non si preoccupi Beh però Che dire Non siamo messi male Non siamo messi male no Magari riusciamo anche a fare l'erad Che ne dite ragazzi Cleariamo top Facciamo l'erad E poi spacchiamo tutto La mia playlist è copyright free La playlist che uso è quella di Soundtack Twitch Fatta proprio per lo streaming Anche se da domani ne utilizzerò Inizierò a utilizzare un'altra Che ho trovato super carina Così ascoltiamo la stessa musica Che va bene da ascoltare in stream Poi vi mostro Davvero adorabile Allora Io vorrei Vorrei fare l'herald Però Renektono L'ignite Ha il flash La nostra boss Prende un po' il pipino La mia ulti era sprecata Potevo giocarla meglio Su tutta la linea Potevo flashare in prima Solo che non volevo flashare Vabbè Dovrei che andava aggiornato Un po' confuso Oh Ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Poteva andare peggio Bad focus Eh sì Che era distante Non volevo flashare in Però dovevo flashare in A quanto pare Vabbè Prendiamoci il Galeforce Prendiamoci i boots Prendiamoci 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 Un po' di armatura Che male non farà Peccato però La mia era anche Era spice Sì Ma che cacchio fa il mio grey Su? Ma 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 ti pare il caso Scusa Grazie Lexus De tre mesi Questo è il grey Smatto Proprio lui Sì Il mio grey Smatto Peccato comunque E che pensavo Renekton Posse Resistesse Di più Onestamente E' arrivato Vrediana Per cui Very very big Goof Vabbè Gli faccio S Basta Lo smite Lo dobbiamo Utilizzare Adesso O dopo Dopo E' un po' Più safe Chiaramente Ma Ma Maledizione Ok Ok Allora Dragon in 50 secondi Via che bozzai Magari riganchiamo la top Che dite Anche se Il nostro Renekton Pensavo a essere snobolato Invece Addirittura behind Praticamente Cosa strana Adesso scendiamo a piazzare Un bel eraldo In top Camilla appena Guardate river Ma Se Renekton In gaggio Non è assolutamente Un problema Però deve andare in Se no Si riesce E' anche Per il flash Bro Non so se era intenzionale Quello che ha fatto Se no Almeno Però era figo Bravo Oh Grazie anche a te Del zap gift Cioè grazie del zap gift Anche allora Ma che cacchio Mi ingaggia Sto biego Oh Io volevo per la torre Lì mi ingaggia Ma sei impazzito Mi pensavo fosse bot side Vabbè Ci prendiamo E scarpe Ci prendiamo Com'è che si builda Grazing Sono già dimenticato Onestamente Collector Forse Collector Si builda Collector Ragazzi Collector Infinity Edge Collector BT Com'è che si fa Non è meglio Mid Ah dipende Si poteva mettere Anche Mid Grazie Grazie Fai bene Sei carino Sei Che pizze Ho tirato A questo Cioè anche se Le avessi tirate Meno pizzose L'avrei ammazzato Però Che pizze Ho tirato Grazie Lexus Ancora col zap gift Ma 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 Bravo Ecco Che mi ingra Il drake Non ironicamente Grazie Grazie amico Via Facciamo Il drago No big deal Ma io ho smittato A pelis Vero Mi sa che ho smittato A pelis Vorrei invadere la jungle Ma trash non è venuto Con me Con la banana Mi da essere Ischi Vogliamo farlo lo stesso Magari Il loro vie Ok nevermind Abbandoniamo La nave Prima che ripila Il support E la loro bot Ah lascia perdere Però Collector BT Infinity Edge Eccetera Eccetera Ok 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 A proposito di stasera Mangio la pizza Oh L'altra volta si parlava Di pizza E stasera mangia la pizza Bravo Boing 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 Allora potrei andare A comprare Ma manca poco al collector Quindi tanto vale aspettare Aspettiamoci se stici 300 gold Cleariamo top Ricolliamo Abbiamo il collector Siamo enormi E' sempre un'ottima pizza E' un'ottima idea la pizza Oh Grazie Ale Eh tu me l'hai mai chiesto Ale Non lasciarmi Ale Parliamone Impegnerò di più come ragazzo Abbiamo il collector E così facciamo Bam Sulla gente In teoria Via Andiamo a collezionare Un po' di anime Voglio andare a dare una mano Alla bot Wait for me Che 0-4 1-2 Poverini Non sono messi bene Come state ragazzi Oh grazie Hatchel Del sub Benvenuto anche a te Come fai a puntare A pingare i soldi Alt più Click Mi pare Ma voi non so se vedete Sul danno che ho fatto Ma Vega è stato Super inutile Peccato E che se cattura Quella spell di Biego Il fatto che Ma il danno che ho fatto È riuscinante Avremmo potuto vincere Noi il fight Un peccato comunque Col danno che ho tirato Fuori io Solo che Biego E' veramente forte E' veramente Veramente forte Cioè col fatto Che diventa Intergettabile Una seccatoria incredibile Poi non sono stato Bravissimo contro Diana Ehi RGT Comunque che danni Porca miseria Allora Andiamo di Vediamo Bt Infinity Age Insomma No veramente Devastato Seraphine a Peles Provo 3 auto E le ho ammazzate 3 auto Penso a test Oh grazie I'll take this Yeah Caretto preso Cosa dici Cosa dici Che sei vecchietto Quello tu ormai Ma quanto è veloce Quello lì Perché è così veloce Non ho il Nemus Clock Ho il Nemus Clock E non lo raggiungo What the fuck Vabbè Via Facciamoci l'Herald Allora 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 Non male Perché in questa chat Non si può rispondere A un messaggio Di un altro utente Non c'è un motivo La roba e le risposte L'hanno messa Come così Quando introducono Novità su Twitch La danno a Una porzione Di partner Una porzione Di affilati Random Per vedere Com'è Com'è La feature Introdotta E poi se piace La introducono A tutti quanti Gli altri Dopo un po' Hanno un test Su X utenti Random E poi La danno anche Agli altri Dopo un po' Oh 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 Grazie a Nunde Sei mesi Bentornato E grazie 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 E l'Electon Bot Si è ammazzato Ma ci picchia Non so perché Scusa Non mi incontro Direi Oh Collected Ho l'impressione Metti mesi Non siano granché Potrei sbagliarmi Forse La top E il support Principalmente Non sono granché Allora Scusi Camila Non prendeva danno Non prendeva danno Camila I don't know I don't know Magari non Crittato Possibile Magari ho crittato Poche volte Resettiamo Un momentino Che prendo Una spata Una spata La legge Della BF Sword Oh Si stanno Flammando Il Spadman Allora Io ho anche Il Red Buff Ho un discreto Farm Ecco Si sta Ammazzando Ecco Non ti ammazzare Gentilmente Una vita Una vita Grazie per il sub Oh Grazie Mi puzza Il prepuzio Lo sapevo Lo sapevo Incredibile Oh Ma 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 Che Una gag Così così Una gag Che puzzavo un po' Quanto il tuo prepuzio Andrò a fare il Blue Buff Senti 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 Trash Non è stato Pulitissimo Non mi è piaciuto In quell'azione Ma poi Renekton è morto Ma andrà già il pipo Come si permette di morire Renekton Comunque qui ero guardato Palesemente guardato Va beh Basta 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 Devo fare il Blue Buff Devo fare il Blue Buff Ma io sei un pazzo Ma che cacchio mi fai di bro Ma sei impazzito Serafine Serafine Va tutto a posto Hello Sono livello 15 Sì all'11 Tutto a posto Serafine Oh Va bene Vai ecco col TP Bro Vai ecco col TP Bro Se mi è dato Mi è dato A levare il World Magari Così non spero Che mi ha dato attacchi Che sono contati 850 di Smite 850 di Smite No è più o meno L'importante Averlo preso Immagino Collected Once again Ok ok Un po' di soldi in tasca Diana ha flashato E abbiamo preso il Baron Boh ho fatto delle cose Ho fatto Mi sembra di aver capito Sono un esperto con Graze Ma Un'altra Buffsword Poink Continuami a scliccare la W Me sleepy Ok Adesso è il momento Di non splittare Ragazzi Siamo belli Siamo forti Siamo pure carini Io non vorrei splittare Non vogliamo ruotare bot Dovremmo ruotare bot Actually Dovremmo ruotare bot Vaggar Ok Vaggar Nevermind Bravo Vaggar Nevermind Nevermind Dove biego? E gli spiego due cose Ma Va bene E adesso cosa facciamo? Va bene Allora builderò la prossima volta Quello È un po' che non giocavo Graze onestamente Guarda il chase Renekton Non particolarmente Word a mio avviso Potrei sbagliarmi Per un 0-4 Renekton Ah però Decision making Ambizioso Dunque 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 Andiamo a fare il drago Andiamo a fare il drago Mi sa Si C'è anche Scuttle my friend What? Non c'è lo scatto Ma 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 Chi è che ha fatto lo scatto Grazie la lanterna bro C'è l'oro blue buff Andiamo a fare l'oro blue buff Oh yes Andiamo a fare l'oro blue buff Andiamo a prendere Un infinity edge Che ci dà Uno spike Non indifferente Questo è il caso Andare back Perché c'è Camilla Camilla Un campione Bastidioso Solo che Tra 200 gold E l'isir Sarebbe conveniente Fare un altro campo Per fare l'isir Vabbè Ci prendiamo una spata Non altrettanto Word Ma è pur sempre Una spata No Gare Che non ci serve Non ci serve A granché In realtà Potevi farci Che cacchio Si va con la spada Che ne so Boh Toglievo di fare GA No Oh Infiltrata Hankos Però io l'ho perso Che tristezza Potevo essere più aggressivo Però Non mi sono sembrati Particolarmente I miei teammates Certo ho tirato La fede Adesso l'ho ammazzato Che schifo Stanno facendo Verda Il biego Wow Non ha fatto Penda Pensavo che si Allora Buildiamo 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 Visto che Mi di mezzo Hanno rollato Ma l'ingredaction Ci serve Faccio Tanti danni Scammata la penta Dobbiamo se fanno i miei teammates E essere dei reset Per biego Questa è la loro utilità Ma questo è un oggetto Che fa schifo Boh Vediamoci la GA 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 Ma in caso che si Fini Cioè Così si bila Graze Non c'è altro Ah executioner Anche poteva fare comodo Sì Vabbè Siamo felici Con la nostra Minizonia Oh Immaginavo se lo scammassero Ma perché continua a cliccare La W Anche quando non clicco La W Che problemi Hanno le mie dita Vai trash Time to shine Boy Vai ingaggiate Boys Ma Cringe Cringe anche questo Oh 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 Hanno ritrollato i miei teammates Ma per se possono addirittura i miei avversari Ma pensa Vediamo se con questo va meglio il prossimo fight Era vincibile Ora non più È un game difficile Lo è sempre stato Onestamente Tirano dritto in inizio game i teammates Quindi Non è mai stato easy game Ma non sono nemmeno tanto bravo con Graze Onestamente Quindi Questo non aiuta E' parecchio Paycore tp top Attenzione Top l'entp Pretty spicy Immagini funziona Fare la kill Wait I taccioli potrebbe fare la kill Completamente a caso Perché non l'aveva tipato per Camilla Ma ormai mi ci muore Oh grazie brosho Grazie andrei Dei 7 e dei 8 mesi Oh e invece Non smetto di tirare dritto Per un attimino Trash array da 3-7 Yikes Grande trash allone mio Raylton si è ammazzato Va bene va bene Vediamo cosa si riesce a fare Ok Ok Sa che tocca Andare via Quasi quasi prendo l'elisir Cadd ragazzi Prendiamo un elisir Ma perché no Ma perché no Ma perché no Ehi E si Ce l'abbiamo Ma Ma La mia W Seguire gli alleati Spesso non va bene Ho questa impressione Non so Potrei sbagliarmi Ma Quando si aggono Col finisce Spesso male Il nostro 0-0-1 per anektono Non è brillante nemmeno Allora 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 GG well played GG well played Hanno trovato quattro i miei teammates Però ce l'avevamo quasi fatto Non era male sto game Per essere con Grace Per essere il primo game della giornata Era accettabile I Renekton Generalmente i Renekton non intano Questo era un po' strano Poi c'è per eccezione questo Renekton Hanno il coraggio anche di plammarsi a vicenda Questi ragazzi che hanno intato tutti e quattro Se hanno intato tutti e quattro